Stavo camminando per strada e mi sento suonare. Ero io. Era lui. Sono Rosario, Fiorello, quello che fa ballando con le stelle. Cioè mi ha fermato per strada lui. No, io gli ho suonato, gli ho fatto biii. Lui ha fatto questo. Cosa vuole questo? Come dirò, capito? Chi cazzo è questo qua? Sì, sì. Si è cagato un po' sotto, devo dire la verità. Questo non so che sia. Era così, era così. Come faccio a riconoscere uno che mi suona e che mi manda delle parolacce? Siamo al fuori da qui. Guarda, dove siamo? Siamo davanti allo stadio di... Lui è con la divisa della Nazionale Cantanti, ragazzi. E sta andando da Maria Elena Buschi. Lo posso dire? Sì, sì. Ma la saluti? Va bene. Lo faccio, eh. Dì che la vorremmo chiamare nell'iPad di Eticola Fiore. Maria Elena, può fare una cosa con Fiorello lì all'Eticola? No, c'abbiamo istituzionale, non si vuole. Non si vuole perché il governo è una cosa seria. Vabbè, ciao. Lo posterai questo, vero? Eh, ce la farà poco. Lo sai, dobbiamo. Capito? Lo sai che io? Io sto a Twitter come tu stai a... No, io sto a Facebook come tu stai a Twitter. E allora io rifacebookerò. Non so come si dice, ma farò qualcosa. Ciao.